Torna domani a partire dalle 18 al Pala San Nicolò il festival sui pattini che festeggia il suo 39esimo compleanno e lo fa con un tributo al cinema. Quest'anno infatti la manifestazione storica del pattinaggio teramano unirà alle spettacolari esibizioni degli atleti le colonne sonore dei film più famosi di sempre. La manifestazione è organizzata dal gruppo sportivo Prutino Teramo. Quest'anno ritorna il premio campione per lo sport e campione nella vita e abbiamo deciso appunto di premiare il maestro Dario Villanova, un maestro di pattinaggio nella specialità corsa degli anni 70 che oltre ad aver forgiato tanti campioni sicuramente li ha guidati non solo nella pista ma anche fuori. E ci sono anche delle novità nello spettacolo? Sì, la sinergia con gli altri sport l'abbiamo sempre voluta e quest'anno quindi oltre allo spettacolo prettamente di pattinaggio artistico con tutti i campioni che si esibiranno ci saranno anche la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica e un gruppo musicale, il Black Ink, emergente di Teramo. Il pattinaggio ha una lunga tradizione e una lunga storia nella città di Teramo e direi che anche i numeri di questa manifestazione parlano di questa storia. Siamo alla 39esima edizione del Festival sui pattini. Tra l'altro nel mese di giugno ho avuto il piacere di festeggiare con Donatella appunto della Prutino Pattinaggio il 45esimo anno di età di questa società. Quindi per capire anche il grande contributo che è stato dato alla realtà sportiva non possiamo che esserne contenti. Abbiamo inaugurato insieme il nuovo fondo della pista di pattinaggio un paio di mesi fa per cui c'è già un percorso avviato insieme che certamente continuerà. Domani saremo presenti.